Un camion si è ribaltato perdendo tutta la merce che stava trasportando. L'incidente è avvenuto venerdì mattina in via Strozzi a San Martino di Lupari. Il mezzo pesante stava percorrendo la strada quando all'improvviso ha perso il carico proprio mentre stava affrontando una curva. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente mentre i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo anche grazie all'aiuto di una gru per raddrizzare il mezzo e recuperare dal manto stradale tutto il carico. Grazie.